Regalo di fine anno per l'impianto sportivo pesarese di Vismara che vede la luce della rinascita dopo l'evento alluvionale dello scorso maggio che vide esondare il vicino fosso della ranocchia devastando il campo da calcio insintetico che aveva appena una manciata di anni di vita. Campo e strutture danneggiate che in primavera furono attenzionate anche dai sopralluoghi post alluvione della protezione civile nazionale e che ora vede lo stanziamento di 700.000 euro da parte del comune di Pesaro. L'amministrazione si è infatti aggiudicata a 440.000 euro del bando sport e periferie ai quali si aggiungono 260.000 euro di cofinanziamento del comune. Una cifra che consentirà di rifare il campo da calcio a 11, quello da calcio a 5, installare pannelli fotovoltaici e completare altri interventi di efficientamento energetico di fatto riqualificando tutto l'impianto di Via Liri ad un livello di sostenibilità superiore al precedente. Un'ottima notizia per la società Vismara che in questa stagione è stata costretta a traslocare e sobbarcarsi i costi d'affitto aggiuntivi per trovare sistemazione a prima squadra e agli oltre 200 ragazzi del settore giovanile. Lo stanziamento comunale è arrivato a pochi giorni di distanza da una frenata in consiglio regionale verso la possibilità di contributi in tal senso.